Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il manuale pratico Amica Colla, manuale teorico pratico dell'incollaggio, autore Pierluigi Poggi, costo euro 9,90, editore Libri Sandit. È un manuale dedicato ad ogni tipo di colla, come si utilizza, quali colle usare per le varie situazioni, i principi, si parla di adesivi, di solventi, di tutto quello che serve per realizzare una colla e come viene utilizzata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per un nostro prossimo video. Grazie ancora. Grazie a tutti.